Ciao e benvenuto in questo video dove ti andrò a spiegare come vendiamo casa tua applicando la nostra garanzia soddisfatti o ti regaliamo tutto. Prima le dovute presentazioni, mi chiamo Mariano Meli e sono uno dei soci fondatori di Casa Finder. La nostra missione è aiutare le persone nel mercato di alto profilo a Parma. Abbiamo due sedi, una in strada della Repubblica e un'altra in piazzale Maestri e un'altra sede in fase di apertura. Siamo circa 15 agenti che si prendono cura ogni giorno dei nostri clienti. Tornando a noi ti spiego come possiamo aiutarti nella vendita di casa tua. Il nostro modo si divide in tre fasi molto specifiche. La prima fase per noi è la più importante, consiste nel capire se possiamo esserti d'aiuto realmente. Per noi non è importante avere tanti appartamenti in vendita ma servire al meglio ogni nostro cliente. Anche per questo non gestiamo più di 5 immobili per ogni agente. Fatta questa dovuta premessa ti spiego la prima fase. Ti forniremo un'analisi gratuita della tua casa, ovvero una prima valutazione di mercato del tuo immobile con una comparazione con immobili simili al tuo compra venduti negli ultimi 12 mesi nella tua zona. Lo faremo interrogando la banca dati dell'agenzia delle entrate, quindi avrai i dati certi. Una comparazione con immobili simili al tuo attualmente in vendita. Ti forniremo inoltre una nostra analisi di eventuali migliorie da fare sull'immobile per massimizzare il suo valore. Terzo, un report dell'acquirente ideale che attualmente puoi trovare sul mercato. E per ultimo un'analisi del nostro geometra sullo stato della tua casa per non avere problematiche durante la fase di vendita. Una volta consegnata tutta questa documentazione deciderai se procedere alla fase numero 2. La fase numero 2 è la vendita di casa tua senza pensieri che include La profilazione acquirenti, questo ti permetterà di non avere curiosi in casa o acquirenti ad oggi non finanziabili. La realizzazione di foto professionali, le foto infatti sono il tuo bigliettino da visita che ti differenzierà in qualità rispetto alle altre case. Terzo, un video emozionale di casa tua che va a colpire il target giusto. La pubblicazione in prima pagina sui siti nazionali più importanti come Immobiliare Hit, Casa Hit e Idealista. E inoltre pubblicheremo il tuo immobile con un post dedicato sui social. Attenzione però, non tutte le foto di casa tua. Infatti chi vorrà vedere ulteriori foto, ulteriori documentazioni dovrà iscriversi all'interno della nostra area riservata. In più avrai la nostra garanzia soddisfatti o ti regaliamo tutto. Nel caso in cui non riusciremo a vendere il tuo immobile in 4 mesi, per il disturbo ti regaleremo tutto ciò che abbiamo prodotto. Quindi rimarranno a te le foto della casa, il video, il sopralluogo del tecnico, la certificazione energetica e tutto ciò che avremo prodotto in quella fase. Lo facciamo perché non vogliamo essere di disturbo, ma anzi una risorsa per chi deve vendere casa. Fatto tutto ciò e trovato l'acquirente di casa tua, passeremo alla terza fase, ovvero la fase di casa venduta, che comprenderà l'assistenza fino all'oggetto notarile di un nostro consulente, la verifica finale di tutta la documentazione che si ha posto, la programmazione con lo studio notarile per lo svolgimento delle varie pratiche. Inoltre avrai un codice bonus all'interno dell'area riservata che potrai utilizzare delle scontistiche con i nostri partner. Quindi, ricapitolando, la fase 1 di analisi servirà per capire se insieme siamo una bella squadra. La fase 2 si parte con la vendita e con l'attivazione della garanzia e per ultimo la fase 3 dove andiamo a concludere il tutto. Quindi, compila il form che trovi nella pagina e ti ricontattiamo noi per un primo colloquio telefonico.